ciao questo nuovo video che di solito che faccio sui film che visto che non l'avevo ancora portato sul mio canale voglio fare la recensione proprio di film che e che avevo già che come film è vecchio che l'avevo guardato anche da piccolo che anche ultimamente hanno fatto anche il rifacimento di questo film nel 2005 ma il primo che avevano fatto era nel 71 71 che come film durava quei 100 100 minuti che voglio dedicare fare la recensione proprio a willy wonka e la fabbrica di cioccolato che come primo film l'avevano fatto nel 71 e nel 70 e nel 2005 l'hanno rifatto con l'attore johnny depp ma il primo nel quello che avevano fatto nel 71 con gene con questo attore gene wilde e per me magari se lo lasciavano stare con la col primo film che che avevano fatto per me questa storia proprio di questa storia di willy wonka e la sua fabbrica magari di cioccolato era meglio perché magari quando capita magari in questi magari film ma è come questi quanto si riesce magari anche a trovare magari anche gli attori giusti e me magari il film amore riesce maria magari viene meglio ma viene meglio che che questo gene wilde questo attore gene wilde che faceva sempre la parte di willy wonka magari e ha più adatto ma ecco secondo me magari confronto a uno magari come johnny depp però che magari che magari anche come era fatto mai quello vecchio da dava magari come si dice quel senso magari che ha proprio adatto mai è uno di quei film adatti marei per i bambini che la trama proprio di questo film e la tratta dal libro di royal dal che si per questo royal dal da royal dal aveva fatto altre sempre storie marei come come queste si premere che andavano bene marei per i bambini che oltre altre come si dice altri mai libri di questo royal dal avevano fatto gli avevano fatto anche la parte del film ma soprattutto questo quadi della fabbrica marei di cioccolato il primo che avevano fatto marei nel 71 marei secondo me magari amare un bel film con foto marei di rifacimento che hanno fatto marei nel nel quello con johnny depp che magari come trama parla più che altro marei di questo di questo bambino povero e che trova che trova per caso marei un amore delle delle monete per strada e il nonno per accontentare marei e questo è questo nipotino piccolo con quelli di monete che riesci marei a trovare si riesce a comprare proprio questa tavoletta proprio di cioccolato proprio che che è stata proprio prodotta da proprio da questa fabbrica di cioccolato che il proprietario e ha proprio questo willy wonka e dentro a questo e questa tavoletta trova un biglietto un biglietto uno dei cinque biglietti per per passare proprio una giornata proprio dentro questa fabbrica di cioccolato dove producono cioccolato e i vari magari anche anche vari tipi di altri dolciumi che che magari la trama proprio di questo di questo libro film parlava più che altro di questo bambino che essendo male anche povero riesce a trovare questo biglietto per questa visita e per una giornata intera questa fabbrica magari di cioccolato che magari questa questa visita magari di questa in questa magari fabbrica di cioccolato ma che può essere magari per molti bambini può essere magari anche un desiderio che anche magari durante mentre ha detto alla fabbrica magari è questo bambino è quello che è quello che magari si riesce a comportare magari meglio mai degli altri quattro bambini essendo mai anche bambini gli altri quattro mai bambini ma magari un attimino un po più fortunati mai di lui e anche ma lei da una parte magari anche tipo viziate così proprio come trama è uno di quei film che magari sono adatti magari sicuramente sicuramente è un film adatto per farlo magari guardare a dei bambini anche se magari come genie può toccare magari commedia un po fantastico come trama essendo presa dal libro di Roald Dahl è molto bella anche se magari nella parte del film anche se io ho sentito che ho sentito che ho visto che magari anche il stesso Roald Dahl che aveva proprio scritto proprio questa trama da fabbrica di cioccolato che facendo magari anche il film sono stati ma è anche la trama è stata un po magari anche modificato perché magari nel nel fare mai il film amarei poi su certe marescene può risultare anche può risultare magari anche sotto marei come genere marei un po musical però l'altra è questa cosa magari è proprio al dalle non gli ha tipo piaciuta come cosa però sono riusciti lo stesso mai a fare questo film però nel complesso e sono come film da parte mia marei è riuscito mare anche molto molto bene come film essendo marei un film marei americano che proprio con questo atto è proprio di geni e wilde dava marei da ispirava marei più come attore da e ha più adatto marei proprio sembrava fatto marei per questo tipo di film con fronte marei ad altri ma che che hanno provato marei fare il riflessione metto marei nelle 2000 nel 2005 e niente che che li volevo magari dedicare questo video proprio alla fabbrica magari di cioccolato di willy walker che che ha presa la trama e ha presa marei da questo da questo libro scritto da al dal e niente che magari quello che potevo ma magari di su questo marei film ma l'ho già detta e marei ci vediamo sicuramente marei più avanti con i miei soldi i soliti marei video che porto mare il marei sul sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao